buongiorno disse il piccolo principe buongiorno disse il mercante era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere perché vendi questa roba disse il piccolo principe è una grossa economia di tempo disse il mercante gli esperti hanno fatto i calcoli si risparmiano 53 minuti alla settimana e che cosa se ne fa di questi 53 minuti se ne fa ciò che vuole io disse il piccolo principe se avessi 53 minuti da spendere camminerei ad agio ad agio verso una fontana ciao